Allora, vi ho raccolto queste belle minose e cominciamo appunto a vedere come possiamo fare per dipingerle ad acquerello, almeno per lo meno inizialmente le faremo ad acquerello, naturalmente disegnandole, osservandole bene e facendo bene tutti i passaggi che sono necessari poi per realizzare una bella illustrazione. Allora, tanto ne lascio e la cosa più interessante, una delle cose importanti che bisognerebbe fare quando si decide di cominciare a disegnare un fiore è quello di fare un po' di documentazione. Per documentazione intendo soprattutto guardare sia quello che hanno fatto gli altri, ovvero gli illustratori botanici, ma anche fare delle documentazioni che, come dire, per studiare un pochino il soggetto, almeno nelle linee essenziali, ovvio non dobbiamo diventare dei botanici, però sapere che cosa stiamo disegnando è fondamentale. Allora, cominciamo intanto a dare un'occhiata a questo libro, dove ci sono le tavole di Marilena Pistoia. È un libro molto interessante, fa vedere abbastanza bene quella che è l'illustrazione botanica tradizionale, diciamo estremamente curata, dettagliata, si vede benissimo il soggetto, si capisce quale è il soggetto e quindi dà molte informazioni in un'immagine unica. Non è esattamente un'illustrazione botanica estremamente rigorosa, già lo vedete da questa tavola, perché i soggetti sono anche, come dire, ritratti in modo molto più, con una certa attenzione alla composizione, con una certa attenzione anche all'armonia, all'armonia della composizione, ma anche quella cromatica, ecco, vedete anche in questo caso. Allora, però noi abbiamo come soggetto oggi le magnolie e quindi vi ho trovato delle magnolie dipinte. Allora, abbiamo sia la magnolia, quella bianca, quella che conosciamo tutti, e poi quest'altra invece che vi ho portato, che invece si chiama magnolia liliflora, perché ha questa forma che somiglia un pochino al giglio. È molto molto bella e ha delle caratteristiche veramente particolari che poi dobbiamo anche riportare nel disegno, ovvero il fiore nasce ancora prima delle foglie. Le foglie ci sono, ma come vedete, sono proprio qui alla base del calice e sono piccolissime. Quindi il ramo è praticamente nudo. Oggi purtroppo ha preso un po' di pioggia, quindi sono un po' rovinati questi fiori, però comunque vi danno la possibilità anche di essere osservati bene, di poter essere anche manipolati, maneggiati, ecco, è interessante questa cosa. Allora, ci sono tanti modi di illustrare le piante e questo diciamo che è il più tradizionale e anche un pochino il più difficile, però vi ho portato anche degli altri esempi di autori, questi sono molto molto vecchi, sono del 700, dell'800, quindi ecco, guardate, l'ho preso e l'ho aperto così a caso. Avete visto che differenza che c'è tra questo tipo di illustrazione e quelle che vi ho fatto vedere prima? Queste sono molto precise, fanno vedere bene come è fatta la corolla di un fiore, fanno vedere bene la foglia, fanno vedere l'andamento della pianta, però allo stesso tempo sono molto anche semplificate nel colore e nella... sì sì, proprio nella memoria cromatica anche, molto molto semplici. Questa un po' meno, ecco, questa guardate questa per esempio, così sempre aprirle a caso. Sono invece anche abbozzate, semplicemente abbozzate, ma comunque raccontano bene la forma della pianta, che è quello che noi dobbiamo fare. Quando parliamo di forma della pianta, ovviamente parliamo del disegno, quindi necessita comunque senz'altro di un disegno curato, un'illustrazione botanica. Ecco, qui anche ve le scorro un po' rapidamente, però lo vedete la differenza di stile? È completamente diversa. Questa è una raccolta di tante illustrazioni e tutte di autrici diverse. Ecco, anche questa, addirittura, l'acquerello è appena accennato e anche in alcuni punti è fuori dalla forma. Quindi si può anche illustrare in questo modo e vengono comunque delle bellissime illustrazioni. Questa qui era un'immagine di copertina, anche molto interessante. Allora, adesso che vi ho fatto vedere un po' di illustrazioni, fatelo sempre. Cioè, guardate che cosa hanno, come hanno lavorato altri illustratori, soprattutto se sono grandi illustratori. Vi danno senz'altro delle ottime indicazioni, oltre che di stile, proprio di stimoli. Ecco, io parlerei più di questo. Allora, prima di dipingere un fiore, dicevo che bisogna stare molto attenti anche alla forma del fiore. E anche una piccola occhiata a quelle che sono le caratteristiche proprio botaniche della pianta, secondo me bisogna darla. Allora, un libro interessato, cioè, si può anche, senza diventare dei botanici, questo sia chiaro, si potrebbe però dare un'occhiata a libri molto semplici come questo, dove ci sono una raccolta di piante, e ora vi faccio vedere la magnolia, come vedete, proprio poche righe, che però vi descrivono bene qual è la pianta e quali sono le parti essenziali della pianta che poi dovranno essere dipinte. Quindi potete dare sia un'occhiata a libri di questo tipo, come anche libri così. Ecco, questo qui è un altro libro molto divulgato, insomma. Vedete, qua c'è la fotografia, c'è una brevissima descrizione della pianta e in questa descrizione c'è, ci sono tutte le parti essenziali proprio della pianta. E questo tipo di magnole è quella che poi, aspettate, no, forse non è questa, ecco, è quella che poi dipingeremo noi. Ora, mi dicono che c'è Dora che sta salutando. Ciao Dora! Ciao Dora! Allora, andiamo avanti a questo punto e incominciamo a fare la cosa più bella dell'illustrazione. Ma scusatemi, non vi ho detto una cosa fondamentale che, allora, la documentazione riguarda sia il, quello che, insomma, dobbiamo osservare quello che hanno dipinto le persone, degli illustratori. Poi, una piccola attenzione, bisogna anche porla alla parte botanica, però anche l'illustrazione, cioè la documentazione fotografica ci serve. E' importante anche quella. Anche quella ci aiuta a osservare la forma delle piante, a vederne i colori. Ecco, per i colori è molto meglio comunque riferirsi ai soggetti dal vivo, perché la stampa li altera abbastanza. E anche la documentazione fotografica è necessaria. Quindi, rifacendo un attimo il punto della situazione, abbiamo, la documentazione, praticamente, è abbastanza ampia, come vedete. Quindi, comprende sia le fotografie che i disegni che hanno realizzato gli illustratori botanici e anche, magari, una piccola attenzione alla parte proprio della botanica. Dico, poche cose, nel senso, il numero dei petali, piuttosto che se ha o non ha il calice, eccetera, eccetera, queste cose qui semplici. Ora, però, la cosa più bella e più importante di tutte, e me la sono tenuta per ultima, è osservare i soggetti dal vivo. Dove? Laddove potete. Appena potete. Se potete, fatelo. Quindi, andate a raccogliere le piante e osservatele proprio toccandole. perché è bello vedere, è bello, va bene vedere, va bene cercare le forme, va benissimo cercare i colori. Però è anche molto interessante toccare le piante. Mi hanno detto che anche Cristina ci sta salutando, quindi la salutiamo anche noi. Ciao Cristina, ritorno alla magnolia e dicevo appunto che c'è un modo di vedere con le mani. Quindi bisogna ritornare un po' bambini in questo. Quindi bisogna imparare a toccare quello che ci hanno sempre detto di non fare, invece bisognerebbe farlo. Quindi toccare le piante, aprirle e avere anche un'idea di quella che è la consistenza dei petali. Avere anche, non so, è come se le mani vedessero. E quindi quello che vedono le mani poi in qualche modo ritorna sul foglio. È chiaro che poi i fiori potrebbero anche avere un profumo. Adesso non voglio dire che il profumo arriva sul foglio, però i grandi illustratori alla fine hanno anche dato un odore alle loro immagini ed è una cosa molto molto bella. Allora, quando abbiamo dei dubbi sulla documentazione, se abbiamo il soggetto dal vivo, possiamo toglierci tutti i dubbi. Quindi vi faccio un esempio. Guardo una foto, non so esattamente che cosa sono queste cose, e le chiamo cose apposta, provo a vedere se nel fiore si vede meglio quello che magari mi è oscuro, queste specie di gemme potrebbero essere, no, potrebbero essere degli abbozzi di foglia, per esempio. Ecco, questo è molto interessante vedere. Per esempio qua si vede anche una piccola righina marrone. Non è altro che questa parte, questa specie di protezione, che si è staccata. E quindi rimane un segno appena appena abbozzato. Quindi avere il soggetto in mano aiuta tantissimo a capire come è fatto ed ha tutte le risposte che noi cerchiamo e che magari nella fotografia non riusciamo a trovare. Quindi quando potete, cercate di raccogliere le piante e di osservarle dal vivo. Quindi, adesso invece però passiamo proprio alla forma. Ora, dunque, fare un disegno, io almeno perlomeno nel momento in cui faccio i disegni sono abbastanza, ci metto tantissimo tempo. Per cui adesso in linee, almeno per linee essenziali, vi dico come poter affrontare un disegno. Allora, ritorno un'altra volta con il soggetto in mano, perché aiuta molto a capire. Dunque, questo fiore, ve lo faccio vedere così, visto in questo modo, ha una forma a calice. Questa forma a calice si può abbozzare, è come se fosse, non so, come dire, è iscritto in un calice, o meglio ancora, visto che comunque la figura è piana, è iscritto in un trapezio rovesciato. Quindi la mia prima figura di riferimento, perché qui devo lavorare proprio di sintesi anche con la forma, devo lavorare di sintesi e quindi, in sintesi, questo fiore si può iscrivere in un trapezio rovesciato. E incomincio a disegnare un trapezio rovesciato, che è poi la mia, come dire, la mia immagine, il mio ingombro, ecco, si potrebbe dire. Ecco, è chiaro che non è così, perché i petali dei fiori usciranno un po' anche da questo trapezio, quindi, per esempio, posso anche contare il numero dei petali e cercare, appunto, di vedere quanti petali riesco a vedere. Ecco, Jessica e Martina ci stanno salutando, quindi le saluto anch'io. Quindi, a questo punto, cominciamo anche a vedere. Dunque, l'abbiamo iscritto in una forma, perfetto, adesso incominciamo a dettagliarlo progressivamente. Quindi, contiamo i petali e incominciamo a disegnarne uno per uno. Di solito, quando disegno i petali di un fiore, li disegno anche se non si vedono. Quindi, disegno sia la parte visibile che quella che non si vede. Quindi, li disegno completamente. Quindi, più o meno, ho calcolato l'ingombro, più o meno ho sistemato l'apice di questi petali sul trapezio e poi comincio a disegnarli piano piano. Sto molto attenta anche alla base, perché il punto di innesto del fiore sul ramo è molto... dovete proprio guardarlo bene e quindi, piano piano, comincio a disegnarli tutti i petali. Sarebbe preferibile studiare il disegno su... disegnare quindi, almeno le prime bozze, farle su un foglio di carta comune. non direttamente sul foglio di acquerello, perché il foglio di acquerello tende a rovinarsi tantissimo nel momento in cui magari disegniamo e cancelliamo. Per cui, se siamo sicuri di quello che stiamo facendo, d'accordo, facciamolo subito. Altrimenti, e disegniamo subito, altrimenti sarebbe meglio farlo prima su un foglio, un solito foglio formato A4 da fotocopia, e poi riportarlo magari sul foglio definitivo. Quindi io adesso, a questo punto, sto disegnando i petali, tutti i petali, anche le parti che non vedo, eh. Quindi... Ma anche, come vedete, li sto abbozzando, come se fossero proprio stirati, eh. Quindi non sto dando loro nessun movimento. Ecco, questo qui è lo step successivo. Qua sono stata un pochino più alta, quindi adesso mi abbasso un po'. E quindi disegno praticamente, poi avevo un altro petalo. Ecco, inizialmente, quindi la corolla la abbozzo con questa modalità, senza andare troppo nel dettaglio. Come se vedessi i petali molto, molto, molto appiattiti. Successivamente, invece, devo dare un po' di movimento alla corolla, perché un minimo di dinamismo ci può stare. Ecco, ora, quanto rendere, come dire, morbida la corolla, me lo dice proprio lo spessore dei petali. Quindi, guardateli bene. Allora, io li sto toccando. Sembrano di per sé abbastanza coriacee. In realtà, sono abbastanza leggeri. E infatti, proprio perché sono leggeri, hanno queste torsioni che sono veramente molto belle. Ecco, queste torsioni, per esempio, si devono disegnare, secondo me, perché oltre a dare un aspetto molto dinamico all'immagine, però, raccontano anche i colori che ci sono tra la parte interna del petalo e la parte esterna. Quindi, anche avere un buon equilibrio tra la parte, insomma, ruotare le petali in modo tale che si veda tanto l'interno quanto l'esterno, dà molto più movimento all'immagine. Quindi, secondo me, ci può stare. Ora, quanto li posso girare, me lo dice lo spessore del petalo. Ed è il motivo per il quale lo devo toccare. Quindi, se è molto coriaceo, ovviamente, è più disteso. Se lo è meno, invece, si può girare bene. Quindi, a questo punto, come vi dicevo, incomincio anche a muovere i petali. Adesso, però, vi faccio vedere un piccolissimo trucchetto per muovere i petali in modo abbastanza bello. Allora, prima di tutto, disegno il petalo come se fosse stato stirato. Quindi, quello che mi avete visto fare prima nel disegno abbozzato. Allora, tenete conto che io sto calcando un po' tanto, perché ho bisogno che si veda bene. Normalmente, bisognerebbe essere un po' più leggeri. Allora, a questo punto, che cosa faccio? Disegno una specie di S in un punto del petalo, sul margine di un petalo. Per esempio, qua. Potrebbe essere questo il punto. E, una volta che ho disegnato questa S, praticamente, chiudo. Allora, qua, per esempio, riapro un po'. Mi allargo un pochino. Mi riunisco al resto del bordo. E poi, disegno la parte del petalo che non si vede. In questo modo. Quindi, in questo modo si riescono a muovere bene, adesso lo calco un pochino di più, eh? i petali. E vedete che nel momento in cui muovo il petalo, l'immagine è decisamente più dinamica, eh? Dà molto più il senso del movimento, e quindi sono, secondo me, molto, molto, molto più belli. E poi, le linee che non mi interessano, chiaramente le cancello. Ora, visto che abbiamo studiato la forma, a questo punto possiamo anche passare al colore. Sì, ecco, ciao Marilena. Marilena ci ha salutato. Salutiamo Marilena. Ciao Marilena. Credo che Marilena sia una ragazza del corso di acquerello, quello pomeridiano. Quindi, un bacio. Allora, cominciamo adesso a lavorare sul colore. Quindi, vi ho detto quasi tutto sulla forma, vi ho detto quanto debba essere curata la forma, e il motivo per il quale, per fare un buon disegno, ci dovete mettere poco poco, anche tre quarti d'ora, eh? Quindi dovete mettervi lì con pazienza, con calma, con il soggetto dal vivo, e disegnare con calma, e disegnare bene. E poi, fino ad arrivare proprio a un disegno completo. Una volta che avete il disegno completo, passate allo studio del colore. E qui, incominciamo a lavorare bene, ancora di nuovo, prendendo in mano il soggetto dal vivo. Perché? Alle volte, come vi dicevo, anzi, sempre, quasi sempre, nella stampa delle fotografie, i colori patiscono un po'. Sono un po' piatti, alle volte, anche se le foto sono molto belle, ecco, non voglio dire. Però, tante informazioni io le ottengo, proprio osservando anche i colori del soggetto, dal vivo. Allora, incomincio intanto a studiarmi i colori. Per esempio, in questo caso, io ho un rosso molto freddo, che tende al viola. Nei petali più interni, il rosso diventa ancora più carico. Il bordo del petalo, invece, è molto chiaro, è addirittura una righina bianca. E poi, ho il bianco del petalo interno. Il bianco è un colore abbastanza difficile da rendere sul foglio bianco. E quindi, dobbiamo capire che il bianco, in realtà, è un po' come se non esistesse. Adesso dico una cosa brutale. Però, bisogna dare l'idea del bianco, senza arrivare al bianco. E quindi, adesso cominciamo a cercare i colori. Intanto diamo anche un bacio a Jessica e Martina. Tesori! Eccomi. Allora, cerchiamo i colori. Mi sposto qui, così magari vedete meglio. Io utilizzo le coline mischiate all'acquerello e mi trovo molto bene. Però potete utilizzare anche solo gli acquerelli. E quando cerco i colori, parto sempre da un colore fondamentale. Ah, scusatemi ragazzi, io mi sono dimenticata di dirvi che se avete delle domande da fare, potete farle. E io cercherò di rispondere. D'accordo? Quindi, fatele pure come, non so, se avete dei dubbi o avete delle curiosità, fatele e cercherò di rispondervi. Avevo dimenticato di dirvelo. Allora, comincio a prendere. Dunque, per cercare il colore, io semplifico tutto partendo dai fondamentali. Quindi per me in questo momento esiste solo il rosso fondamentale, quindi il magenta, il blu e il giallo. Questo colore somiglia molto di più a un rosso e quindi parto dal rosso fondamentale che è qua. Lo metto qua dentro. siccome il colore e coline, cioè le coline ha un colore abbastanza finto e non mi piace tantissimo, lo miscelo all'acquerello che invece ha colori molto più belli. Quindi parto da questo rosso che ovviamente non è quello del soggetto ed è molto più freddo e aggiungo un po' di blu. In questo caso il blu lo mettiamo, lo prendo dall'acquerello. Ne metto pochissimo perché il blu tende ad essere un colore molto invadente, molto concentrato e quindi cerco anche di tenermi abbastanza leggera. Ora, il blu che metto dovrebbe essere più o meno un blu fondamentale, però questo è un po' troppo violaceo quindi aggiungo dell'altro rosso e aggiungo magari un po' di rosso fondamentale. Adesso vado con l'acquerello. Non riesco ad aprirlo quindi prenderò l'acquerello nel deligodello. Vediamo se è migliorato. Ah sì, c'è una domanda Cecilia. Sì, allora chiedono se con il bianco bisogna dare l'idea del bianco. Sì. E solo un momento. E con il nero che cosa si fa invece? Si dà l'idea del nero. È la stessa cosa, cioè praticamente il bianco e il nero sono due colori limite e a questo punto. E a questo punto sono tutti e due leggermente... Io adoro il bianco però è abbastanza difficile dare un'idea del bianco. Ora bisogna cercare di lavorare su tanti colori chiari, molto chiari cercando di metterli in posizione strategica in modo tale da tirare fuori il bianco della carta per lo meno di non toccare assolutamente il bianco della carta però soprattutto per esempio nei fiori dove devo comunque delimitare una forma è il caso che invece la delimiti con un colore chiarissimo che di solito potrebbe andare dall'azzurro molto chiaro piuttosto che un giallo molto chiaro piuttosto che un grigio appena accennato e così via. Però quello che io devo avere come impatto finale è proprio l'idea del bianco. Cioè lo guardo e dico è bianco poi lo guardo da vicino e capisco che non è bianco. Ecco questo è il trucco. La stessa cosa vale per il nero. Quindi anche del nero è la stessa storia. Cioè devo avere l'impatto visivo è nero. Guardo vicino 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 nel dettaglio e non può essere nero. Ecco questo dà anche una certa insomma bisogna anche farlo soprattutto con il nero perché una volta che viene recepita l'immagine se uso proprio il nero è come se bucasse il foglio quindi è meglio utilizzare un colore un colore vicino al nero. E leonora chiede che carta d'acquerello stai usando che grammatura ha quella perfetto allora sarei arrivata a rispondere a questa domanda nel momento in cui almeno facevo la prima stesura dell'acquerello dunque qui dipende un po' da voi io in questo momento siccome devo andare un po' in velocità uso una carta 200 grammi cioè quindi una volgarissima carta da studio di 200 grammi però se dovete lavorare con più calma è meglio che utilizzate una carta più pesante 300 grammi è una buona grammatura in modo tale che l'umidità dell'acquerello rimanga un po' più a lungo sul foglio e vi permetta di poterlo muovere con più lentezza quindi io direi che se siete proprio proprio alle prime armi è meglio utilizzare una carta un po' più pesante e ne ho solo un'altra domanda da Alessandro chiede come si fa ad evitare che si mischino tutti i colori nel godè una volta che vengono miscelati e poi come si pulisce il pennello che chiedo allora dunque io su questo non sono molto brava nel senso che vi spiego per me i colori si sporcano nel demigodè però se si vuole fare una cosa pulita per esempio quando si preleva il colore guardate si sciacqua bene il pennello si asciuga un po' adesso per esempio prelevo questo rosso ecco lo metto sulla tavolozza e se devo andare di nuovo a prendere un altro colore risciacquo bene il pennello lo asciugo un po' ma lo risciacquo veramente bene e poi prelevo un altro colore in questo modo i colori non dovrebbero mischiarsi riesco a tenerli abbastanza puliti poi i pennelli io li sciacquo semplicemente con acqua e basta perché uso l'acquerello e l'acquerello si scioglie con l'acqua si scioglie perfettamente non lo lascio seccare sulla punta del pennello però anche se dovesse seccare non cade il mondo non è acrilico ora per lavare bene un pennello preferisco non usare proprio nient'altro che l'acqua però faccio questo lavoro qui guardate sciacquo proprio bene 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 così con una certa energia in modo tale che si sciolga bene tutto l'acquerello che è rimasto nelle setole poi faccio quest'altra cosa una volta che l'ho sciacquato bene lo appoggio su un tovagliolino di carta e schiaccio forte schiacciare forte vuol dire tirare fuori tutto il colore che si ferma qua alla base della punta e in questo modo rimane sempre bello pulito se vedete che c'è un po' di colore ancora sciacquate bene con energia poi di nuovo schiacciate forte fino a quando non venete la carta bella pulita solo questo faccio acqua e basta allora ritorniamo ai colori direi che potrei fermarmi con questo colore base quindi ho usato il rosso l'ho modificato con un po' di blu e più o meno ci siamo siamo qui il colore è abbastanza il suo ma non c'è solo questo colore c'è anche il bianco abbiamo detto il bianco quindi dovrò dare l'idea del bianco allora l'idea del bianco io posso darla per esempio adesso questi due colori scusatemi ma ve li tolgo perché sennò fanno confusione allora l'idea del bianco quindi in questo caso lo diamo con un pochino di questo colore che ho già preparato molto 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 diluito e leggermente più sporcato di blu quindi prendo ancora un po' di blu vediamo se può andare in sintesi faccio un viola molto più freddo direi che ci può stare ecco anche un pochino più diluito quindi per esempio utilizzerò questa diluzione allora di solito sulla tavolozza è anche molto importante seguire un ordine preciso soprattutto quando si deve lavorare con più colori di solito metto su questa su questa parte su questo lato metto i colori più concentrati via via che li alleggerisco con l'acqua e li sposto li metto qui insomma quindi per esempio questo colore sarà più alleggerito con un pochino di acqua ecco se volessi un colore ancora più leggero faccio così così ho un colore molto concentrato e allo stesso tempo e allo stesso tempo anche molto diluito adesso passiamo però a disegnare veramente il petalo perché quando realizziamo i colori dobbiamo anche cercare di fare delle piccole prove per vedere se quello che sto facendo funziona per davvero quindi io qui ho fatto delle prove ho già fatto delle prove però ve le faccio vedere anche se i colori non sono esattamente questi perché quando ho fatto le prove non avevo il soggetto dal vivo e quindi mi sono basata sui colori che ho visto in una foto e sono abbastanza diversi ora noi realizziamo un petalo diciamo che il petalo esatto è questo quindi mi chiedono dove si compra la tavolozza quella tavolozza questa? sì allora questa è una tavolozza che mi accompagna da una vita il che significa che non so più nemmeno io dove l'abbia presa però è estremamente comoda perché è piccola è quella che mi porto dietro credo che le abbiano nei negozi di belle arti ecco credo adesso non mi ricordo addirittura se è stato un regalo però è molto ed è molto comoda molto più comoda di quella grande perché me la posso portare dietro puoi farla vedere bene? sì facciamola vedere subito guardate così è comodissima perché posso mettere i colori posso miscelarli qua dentro come se fosse una piastrella e poi se invece non utilizzo questa come se fosse una piastrella e ho bisogno di tenerli umidi perché il lavoro mi porta via un po' di tempo e magari i colori gli acquarelli si asciugano li chiudo e rimangono umidi quindi quindi è veramente comoda ed è piccola per cui ti può stare anche in tasca è veramente veramente comoda allora facciamo una prova di un petalo adesso con questi colori e dobbiamo sempre farle queste prove prima di passare al definitivo perché ci possono essere delle sorprese possibilmente fatelo sulla carta sulla quale avete disegnato il il fiore così avete veramente anche l'idea di 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 con che velocità si asciuga la carta avete insomma praticamente tutte le informazioni base allora disegno un petalo come viene senza tanto è una prova quindi posso disegnare un petalo molto semplice allora per dare l'idea di questi petali io farei così darei passerei da il colore molto diluito e comincio a stenderlo vediamo un po' se è abbastanza leggero perché devo stare molto attenta a non perdere l'idea del bianco ecco qua ci può stare devo anche tenere l'acqua abbastanza vicina perché ho bisogno di allora la tecnica che io in questo momento sto usando è la tecnica della bagnato su bagnato cioè è una diffusione in parole povere sto cercando una diffusione nel senso che guardo come è fatto il petalo vedo che ha una è come se i colori si fondessero in modo quasi disomogeneo su tutta la superficie quindi questo effetto lo posso ottenere con la diffusione la diffusione altro non è che la stesura del colore di un colore di base adesso lo faccio vedere così e poi posso inserire un altro colore che si scioglie in quello sottostante è chiaro che se io non bagno si scioglie fino a dove ecco fino a dove ho bagnato non è esattamente una sfumatura ma è proprio come dire il colore si scioglie con questa modalità in modo molto molto libero ecco e questo metodo questo modo imita perfettamente il petalo stesso quasi tutti i petali hanno questa caratteristica ecco hanno queste fusioni mai troppo precise mai molto nette sono molto morbide adesso asciugo un po' perché sennò sporco bagnando il petalo quindi ritorniamo a noi e incomincio a dare questo effetto di diffusione allora bagno tutta la superficie cercando di ora io sono su un piano inclinato non ho bisogno di muovere il foglio però altrimenti dovreste vincolarlo a una tavoletta con del nastro adesivo e poi potete muoverlo in modo tale da lavorare sulla goccia perché a me piace molto lavorare sulla goccia e cerco di spostare il colore proprio solo con la punta del pennello toccando il meno possibile la carta ora vi dicevo che bisognava dare l'idea del bianco però in questo caso io mi perdo quasi completamente la definizione della punta quindi metto guardate vedete un pizzichino proprio poco 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 di colore in modo tale che si fonda vedete come viene rimarcata meglio la punta del petalo e si vede bene vado avanti arrivo fino in fondo ecco la diffusione voi la ottenete solo sulla carta bagnata quindi sulla parte bagnata incomincio a picchiettare un po' di colore in questo modo lasciando che si diffonda in modo molto naturale quando faccio questo lavoro scarico anche il pennello quando prelevo un po' di colore perché devo andare proprio molto molto lentamente la parte centrale leggermente più più segnata poi incomincio anche a fin tanto che è asciutto che è bagnato posso avere la diffusione nel momento in cui si asciuga la diffusione non ce l'ho più e ho invece una velatura adesso sto cercando di simulare le venature aggiungo ancora un po' di colore ecco adesso sto l'acquarello praticamente mi si è quasi completamente asciugato del tutto quindi quello che sto facendo in questo momento sono delle venature su carta asciutta passo passo un pennello leggermente più sottile perché se no non riesco a curare i dettagli un po' di sol Allora Adesso sto cercando di rafforzare un po' la base di questo petalo con delle piccole pennellate date a secco e sono delle pennellate abbastanza scariche. Quindi prelevo il colore, lo scarico su un pezzettino di carta e lo passo sul petalo. Ecco qua. Allora quando si fanno questi lavori bisogna essere sempre molto molto con molta calma perché bisogna valutare sempre molto bene anche quanto tempo ci mette la carta ad asciugare per controllare proprio la morbidezza delle diffusioni. Ecco in questo caso si è un po' asciugata troppo rapidamente e quindi i segni rimarranno leggermente più, le venature leggermente più visibili però ci possono stare benissimo. Come vedete la venatura io non la faccio come una linea dritta così ma cerco di farla invece in punta di pennello con un pennello molto scarico senza essere nemmeno tanto precisa. Quindi muovo anche leggermente il pennello, lo stacco, vedete che differenza che c'è, è molto molto più delicata ed è anche molto più vicina a quella che è davvero una venatura. C'è Jessica che ha una domanda. Sì. Chiede se le venature e le definizioni non le sfumi e quindi rimangono proprio a dettaglio. Allora, inizialmente le faccio una diffusione, la diffusione praticamente mi sfuma il colore, vedete come in questo caso. Sopra la diffusione poi faccio i piccoli dettagli, quindi piccoli dettagli sulla superficie molto asciutta. Adesso questo petalo si è asciugato un po' troppo rapidamente, però per dire, se mettevo un pochino più di acqua si sarebbe asciugato leggermente in modo più lento e avrei potuto anche avere più morbidezza. Però se per caso vi dovesse capitare di non avere più quella morbidezza che desiderate, adesso vi faccio vedere come si può rimediare. Allora, guarda, scarico il pennello, vedete, e faccio una specie di frottage. In questo modo riesco anche a recuperare un po' di morbidezza dei petali. Però tenete conto che dipingere bene un petalo richiede un bel po' di tempo. Mi chiede veramente un bel po' di tempo, quindi bisognerebbe bagnare bene la carta e lavorare su una carta particolarmente bagnata bene. Allora, adesso a questo punto vado avanti con piccole definizioni. Allora, stavo pensando che c'è anche un altro modo per, eventualmente lo faccio vedere qua, per alleggerire magari una linea troppo netta, quindi non dico cercando una sfumatura, però ammorbidendo un po' una forma. Ed è questa. Si prende il pennello, si bagna con l'acqua, poi si prende un pezzettino di carta pulita, si passa sulla parte che magari rimane troppo dura, troppo delineata, si bagna e si tampona. In modo tale da assorbire un po' di colore in eccesso. Anche questo metodo aiuta ad alleggerire e a dare un po' di morbidezza. Addirittura su colori molto scuri serve anche per dare delle lumeggiature, quindi può aiutare tantissimo. Adesso lo rifaccio ancora un po' di volte, questo petalo è un po' martoriato, però non fa niente. Mi chiedono anche se si può usare la punta lama. La? Punta lama con un pennello grande. Punta lama? La lama. La lama? Sì. Ah sì, il bisturi. Il bisturi? Sì, si può usare il bisturi, certo, ma non adesso però. Lo si può usare soltanto per i dettagli perché il bisturi taglia la carta, quindi la rende molto porosa. Allora, se io dovessi fare un dettaglio, diciamo, a metà dell'opera, adesso se ho qui un bisturi, ve lo faccio anche vedere, rischio poi di rovinare tutto, per cui è il caso proprio se di usarlo proprio per i dettagli, ecco. Ecco, vabbè, non è proprio un bisturi, è un taglierino. Però, se io dovessi schiarire, cercare per esempio di schiarire con un taglierino, ecco, questa carta non si presta molto però perché si sbriciola un pochino, però poi per qualche ragione dovessi ritornare a dover dare del colore, purtroppo succede una cosa di questo genere. che dove ho lavorato con il bisturi, vedete, si ferma il colore nella carta e rimangono dei segni molto, molto, molto netti. Quindi questo è un lavoro che si può fare solo nel dettaglio e alla fine di tutto il lavoro, proprio come ultimo, ma proprio ultimo passaggio. Là dove magari non ho lasciato delle parti bianche, posso intervenire con un bisturi molto affilato, non con questo taglierino perché non è abbastanza affilato, quindi togliere via un po' di colore e meglio ancora utilizzando una gomma che si chiama gomma matita, che è molto, è leggermente abrasiva ed ha dei risultati molto buoni. Adesso ve la cerco, così ve la faccio vedere, eccola qua. È chiaro che devo avere una punta un po' fatta meglio, ecco, questa gomma matita toglie via il colore molto bene. Vedete? Ecco, se poi ho bisogno di toglierlo proprio in un punto piccolissimo, potrei ritagliare un pezzettino di carta, sagomarlo, per esempio, con questo modo. Posso appoggiarmi al cartoncino in modo tale da tirare via il colore sottostante. Adesso lo sto facendo a caso, ma giusto per farvi vedere un po' i trucchi. Quando tolgo la mascherina, il segno, cioè laddove c'è il foglio, la gomma non ha praticamente rimosso il colore. E quindi posso anche essere abbastanza precisa con la gomma matita. Però, come vi dico, queste tecniche sono proprio da, come dire, da dettaglio. Alla fine di tutto possiamo utilizzare questi piccoli trucchi. Ecco, ciao Veronica! Ciao! Ciao, ci stai salutando? Ti salutiamo anche noi, ciao! Allora, torniamo a noi. Dunque, vi ho fatto vedere... Vi ho fatto vedere come si realizzano... Questo, ovviamente, è, come dire, un concentrato di prove, ecco, questo petalo. Per cui, prendete, ad esempio, questo petalo, per esempio, questo, questo. In modo tale, ecco, che ho potuto fare con un pochino più di calma. Dunque, questo petalo, diciamo, che va abbastanza bene. Adesso, quando dovrò riportare tutto quello che, in qualche modo, ho studiato sul petalo, ecco, quello che ho studiato sul petalo, lo posso riportare sul disegno definitivo. Ricordiamoci, però, perché magari intercorrerà un po' di tempo, di prelevare una piccola campionatura, quindi dei colori. Quindi, intanto, ci cominciamo a preparare, che ne so, questo colore. Poi, avevamo detto che avevamo bisogno di un colore intermedio. Di un colore un po' più diluito. E poi avevamo anche i viola, che dovevano, in qualche modo, simulare i nostri bianchi. Ecco, direi che questa, più o meno, sono i campioni dei colori che io utilizzerò. In alcuni punti del petalo, però, vedo anche del verde. un verde molto pallido, quasi tendente al giallo. Quindi mi preparo anche quello, così, perlomeno, ho proprio tutto. Adesso il giallo lo prendo da qua, perché ha un po' di acquerello. Ecco qua, preparo. Riprendo i colori... Indemigodè. Allora, prendo pochissimo blu. Lo metto qua, anzi, per essere sicura. E direi che ci siamo, sì. Aggiungerei anche questo. Eccoci. Allora, a questo punto, direi che, se non ci sono altre domande, domani, possiamo proprio dipingere insieme. Possiamo dipingerlo domani, così abbiamo tutto il tempo. Ci dedichiamo proprio un'oretta a dipingere bene il disegno. Eccolo qua. Quindi è pronto. Ho cercato di fissare immediatamente la forma. Ma vedete che ci sono ancora sotto le linee di costruzione, per cui l'ingombro massimo e poi i petali, appunto, li ho modellati successivamente. La palette dei colori ce l'ho, ed è questa. Quindi la ritaglio, me la tengo già pronta, ce l'ho già pronta per domani. E quindi domani è quello che potremo fare insieme. Ora, manca una piccola cosa che non abbiamo fatto, però magari un accenno di questa cosa, la facciamo anche domani, ovvero è il chiaroscuro. Perché nel momento in cui decido di realizzare un petalo, va bene, d'accordo, va benissimo, però è piatto. Nel momento in cui invece decido di colorare, di dipingere una corolla, ho bisogno di dargli anche un effetto tridimensionale. E quindi devo capire esattamente dove devo caricare di più il colore, e in che modo, e dove invece lo devo alleggerire, per dare un po' più di respiro e anche di volume. Quindi questa è una cosa che faremo domani, con una modalità particolare, può essere molto semplice, molto dettagliata, però vi farò vedere la versione semplicissima, in modo tale da poter vedere esattamente dove sono i punti più scuri e i punti più chiari del disegno. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Domani alle 19. A domani, ciao.